Milano, sembra arrivato alla fine il sodalizio musicale fra Fedez e Jax. Il neo-papà e il collega rapper, dopo anni insieme, avrebbero infatto deciso di continuare con la carriera da solisti, non senza però regalare ai fan l'ultimo tormentone estivo. Prima dell'addio infatti Fedez e Jax stanno registrando il video della futura hit italiana a Los Angeles, in questi giorni a Los Angeles, fa sapere chi, il rapper Fedez e il collega Ilunga Ax stanno registrando l'ennesimo tormentone estivo di prossima uscita. Ma questo singolo avrà un valore particolare perché sarà la loro ultima volta in coppia, dopo il concerto a San Siro a giugno proseguiranno la carriera da solisti. Italiana il nuovo singolo estivo. Fuori il 4 maggio. Un post condiviso da Fedez Chiocciola Fedez, in data, April 26, 2018 a 8 e 13 PDT. Puoi ricevere una nostra videochiamata? Ecco cosa fare, 1. Salva o preordina il nostro nuovo brano su Spotify o iTunes 2. Fai uno screscio e pubblicalo con l'hashtag cancelletto italiana 3. Incrocia le dita pubblicheremo le chiamate sulle nostre stories Link in bio e nelle stories. Un post condiviso da Fedez Chiocciola Fedez, in data, April 27, 2018 a 6 e 4 PDT. Copyright riproduzione riservata. Venerdì 27 aprile 2018, ultimo aggiornamento, 21 e 39.